no non so rinno che voi hai i snodi di WEC ragazzi volevo augurarmi tanti auguri di buon anno è arrivato anche il 2011 spero che lo passiamo con voi in una maniera proprio 2011 esca ci divertiremo anche quest'anno ci saranno nuovi video ci saranno nuove canzoni ci saranno nuove amici ci saranno amicizie ci saranno nuove emozioni ci saranno ci saranno comunque auguri a voi e tutta la vostra famiglia e abbiamo iniziato quest'anno diciamo con un video diciamo che improvvisatorio cioè l'improvviso venga una voglia buon messaggio Mirko ha avuto la brillante idea di prendere un numero dalla sua rubrica abbiamo chiamato ha risposto questa ragazza che era cioè diciamo molto simpatica ragazze che è stata al gioco ma non lo sapeva che è stata al gioco perchè intanto dopo ha richiamato e poi ci spiega dopo e comunque l'abbiamo un poco insallanuta per chi non capisce per chi è di fuori, alt'italia insallanire vuol dire complicare il modo di capire per esempio quando uno è insallanuto che stai dicendo? ti insallanuto comunque abbiamo un po' variato addosso a questa ragazza poi vedete come vogliamo tanti commenti e lo dovete condividere su youtube ma se non volete non lo faccio ma non lo faccio e tanti auguri pure da parte di Mirko un bacio tanti auguri questo è un po' un rivale questo è fiesta loca lui però ti vogliamo bene sono i nostri amiconi ma stacca ma ci chiamo in mazzato fare un saluto a Sasanelli e a Likin agli altri componenti Pasquale Esposito mio fratello Renato tutta la mia comitiva Enzo Sarno, Enzo Messina, Franzù Nervoso e tutti quelli che ci vogliono bene che ci hanno seguito e tutti quelli che ci seguiranno è già pulito la resta 3 3 3 ragazzi questa ragazza si sta insalando si sta insalando aspetta, aspetta, aspetta aspetta, aspetta, aspetta ooo aspetta, ma che cosa stai facendo? aspetta, questo è il numero mio ma che numero c'è? 3 3 7 allora, 3 3 3 da 7 e poi? da 5 e 2 da 5 allora, parliamo di settimana 1 numero 5, 2, 2, 3, 3, 3, 5 e 7 da 2 92 nooo, che sto piangendo secondo me oggi? stai facendo sfottare non voglio girare la siena non ti viene sfottare nooo, ma con metri da 2 il 92 quanto? 40 3 3 3 5 e 7 da 2 92 eh eh 50 0 8 1 e quanto? 0 8 1 5 e 9 6 ah allora 5 e 9 6 0 8 1 5 e 6 assolutamente è poco lungo no, 0 8 1 è prefisso che cosa? 0 8 1 è prefisso e chi l'ha prefisso? eh sì ma qua non prende bene o sei tu che non prendi bene? ma vedi che qua la linea è il caso di cosa? e a me catta 2 e 2 è il caso non è bene tutto pronto sento sento non ti sento sento non ti sento sento devi farci non ti sento non ti sento non ti sento ma vabbè non mi ha parlato non mi ha parlato di amici no non sono un'almazzatura sono un'almazzatura mi ha parlato di amici mi stai scusando di te e a te aspettate mi ha parlato di amici e che non mi ha parlato di amici e ster allora sei il tuo numero mio o no? e a te 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 Gioanorus Gioanorus Allora, Gioanorus Gioanorus 08 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 Haci Si Ma allora, io gi навci sano come qui Ma allora invece bec, hai una capa fresca, subito, esatto? hai una capa fresca? in giro assoluto? stai zitto ah a posto non ci facciamo ma ora facciamo la l'ultima volta l'ultima volta è basta 3,17 allora 23,17 non darò non darò non darò 2 32 non fai chiudere e prendi 2 72,51 al mfd i saldi o 2 per 1 allora l'ultima volta è 3,33 57 ma spi ma che c'è 57 77 ah 67 23,77 da 2 08,1 quanto numero è questo numero il numero della carta che è staccato 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 ma guarda la nuvatura ma fai un squir ho un squir con 3,3,3 il numero 6 77 non è 76 oi la mamma devo mettere basta non ti metto mai troppo giù non metto mai troppo giù non metto mai troppo giù stavate le due lezze stavate le due lezze stavate le due lezze stavate le due lezze io non voglio ragazzi seguiti saluto dal mio primo video del 2001 un bacio amico bene e la velo pazzi